passiamo alla parola del signore stasera leggiamo in ezechiele capitolo 33 dal verso 30 e diciamo signore parlami attraverso la tua parola alleluia ezechiele capitolo 33 dal verso 30 è un bel racconto questo però è un poco ci parla molto chiaro questo passaggio è proprio perché ci parla noi dobbiamo mettere attenzione perché quando la parola del signore ci parla vuol dire che viene dal lato giusto per sollevarci e portarci avanti quanto a te figlio duomo i figli del tuo popolo discorrono di te presso le mura e sulle porte delle case parlano l'uno con l'altro e ognuno con il suo fratello e dicono venite prego ad ascoltare la parola che proviene dal signore vedete che bella frase che bella cosa c'è un profeta che si chiama ezechiele dio gli dice sai cosa c'è dietro le quinte di te dietro di te che cosa succede dietro le mura quando si incontra il mio popolo dicono di tutto ma soprattutto poi dicono senti andiamo oggi a sentire il profeta ezechiele perché il popolo di israele sa che i profeti parlano da parte di dio è come se venisse un predicatore speciale e noi diciamo andiamo perché questo ha un dono è un profeta essendo profeta è uno ad alto livello il profeta è il portavoce di dio prende da dio lo traduce in un linguaggio comprensibile all'uomo e e parla e cosa fa e il popolo dice andiamo 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 al culto andiamo sì andiamo 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 alla messa andiamo andiamo e pasqua andiamo andiamo e tutti si muovono che vanno e fin qua sembra proprio che questi cristiani agiscono bene perché vanno venite prego ad ascoltare la parola che proviene dal signore ma quando vengono però che cosa succede vengono da te come fa la folla cioè si affollano sono tanti che vengono il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole e fin qua benedetto dio ma adesso dobbiamo porre attenzione perché mi diceva un amico quando ero piccolo se è vero non lo so dice che aveva fatto quattro anni la prima poi lo promossero in seconda e andava ancora in prima perché si era abituato è un poco come come fa questo popolo come facciamo noi come dite voi eh fino a che ascolta se siete davanti a te ascolta le parole ma cosa fa c'è una virgola ma non le mette in pratica signora aiutaci eh andiamo veniamo parla il papa a piazza san pietro piena parla un altro tutto andiamo al culto eh ma la cosa non è proprio solo ascoltare la parola del signore dice perché con la bocca fa mostra di molto amore avete visto la gente si è conformata tutto bello tutti cristiani tutto ma sembra proprio che l'italia sia la nazione più cristiana del mondo però pare che poi i risultati non sono così pare che noi siamo quelli che però ma il suo cuore va dietro alla cupidigia va dietro alle stesse cose non cambia nulla la cupidigia c'è l'attrazione delle cose del mondo l'egoismo tutte queste cose qua e il cuore non si stacca da quello pur ascoltando la parola del signore il cuore non si rivolge verso di sta sempre così non si rivolge così signore ci deve aiutare ecco tu sei per loro come la canzone di amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene allora mettendo insieme il tutto vediamo una grande scena quest'uomo che parla da parte di dio è paragonato a dove si raccolgono le folle ma che fanno di tutto un cantante migliaia di persone vanno la guà 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 battono le mani si girano e si votano però alla fine non cambia nulla vanno di qua la festa le feste feste pagane che sono sotto il titolo cristiano andiamo 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 che poi la facciamo tutto e aumenta il peccato perché si va con scopi che non sono quelli è arrivato pasqua 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 mangiamo l'agnello però si dimentica l'immagine dell'agnello che cosa è è natale andiamo andiamo nord sud vengono dall'estero si riempie panettoni panettoni tutte queste cose qua alla fine quando si conclude al compleanno manca chi si deve fare la festa manca gesù nel bel mezzo di ogni festa il risorto e manca il risorto nel bel mezzo della festa perché come si svolge si svolge come qualsiasi altra cosa dove le folle e le persone si raccolgono ma non è così con la parola del signore perché anziché continuare a restare in quella direzione il signore attraverso la sua parola vuole che il nostro cuore si modifichi si modelli e comincia a cercare che cosa cercate prima il regno di dio e la sua giustizia se si finisce sempre a tarantelle eppure la parola del profeta viene poi così tradotto eppure dio quando parla così si svolge perché entriamo usciamo andiamo veniamo corriamo per andiamo a sentire però fratelli sorelle la parola del signore ci parla con molta chiarezza ecco tu sei per loro come una canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene e vengono ascoltano però alla fine non si portano nulla a casa come uno si fa sentire un'orchestra quando c'era in mezzo alla piazza che c'erano le feste ci sono ancora c'era la banda andavi là stavi due ore però quando tornavi a casa avevi pieno gli orecchi ma non concretamente non portavi nulla e così non deve essere con la parola del signore quando noi sappiamo che è dio che parla dobbiamo porre attenzione dobbiamo porre mente dobbiamo costruire dobbiamo muoverci dobbiamo vivere la nostra vita in un modo diverso ma non la mettono in pratica ma quando la cosa avverrà ed ecco sta per avvenire essi sapranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta cioè in parole diverse io a questo popolo gli ho dato qualcuno che parla al posto mio qualcuno che gli parla e comprendono ma il comprendere cosa vuol dire non vuol dire solo sentito comprendere vuol dire poi ho compreso adesso devo fare devo mettere in pratica la vita cristiana non si vive di ascolto soltanto noi dobbiamo ascoltare ma poi ci deve essere un cambiamento nella nostra vita la nostra vita deve essere vissuta per quelle cose che quotidianamente noi impariamo per avere un'idea più chiara possiamo prendere un esempio di quello che san paolo da nell'epistola ai romani nel capitolo 12 capitolo 12 verso 1 dice presentate il vostro corpo come un sacrificio vivente davanti a dio ma signore aiutaci che terminologia che viene usata io vi esorto dunque fratelli a chi parla a coloro che ascoltano la parola di dio qui l'ascoltano dalla bocca del profeta ezechiele e dice la parola del signore che qui parla ancora da parte di dio e ci dà un'esortazione vi esorto dunque fratelli per la misericordia di dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente santo gradito a dio questo è il vostro culto spirituale o chiede un'altra cosa il signor nostro culto spirituale non è quello di andare sentire e poi tornarcene come abbiamo letto nostro culto spirituale è andare adorare e insieme tutto noi stessi quando guardiamo questa immagine il sacrificio come viene messo viene messo viene esposto a dio e ogni parte di questo sacrificio che viene così esposto e bruciato nella presenza di dio viene donato a dio ogni parte di sé o signore aiutaci allora la vita cristiana che cos'è ogni parte di noi è messa per onorare dio per piacere a dio la nostra intelligenza la nostra dedicazione le nostre possibilità i nostri doni che ci ha dato le cose più vanno consumate per onorare il signore questo è il culto spirituale allora vedete la differenza comincia ad essere diversa comincia ad essere come comincia ad essere di un popolo che ascolta che ascolta ma qui c'è un popolo che vuole svolgere un culto spirituale a dio ma le indicazioni sono molto chiare sono chiare che non serve solo l'ascolto è importante quando dio parla quando i ministri quando la parola di dio parla è importante ascoltare però poi le risorse che noi ne abbiamo da quel nutrimento della parola vanno messe in moto per essere messe a disposizione di dio perché dio possa essere onorato attraverso e questa funzione che è una funzione la possiamo chiamare il culto spirituale si può anche tradurre come si usa dire la religione la vera religione noi diciamo che la religione non porta dio però nell'insieme la religione fa comprendere le cose di dio per mettere in pratica le cose che l'uomo può fare l'essere umano può fare se vogliamo comprendere che cosa dice riguarda la religione andiamo ad un apostolo pratico che è il fratello del signore gesù cristo che si è convertito dopo la risurrezione di gesù cristo l'apostolo giacomo perché lui aveva sentito la storia che il fratello c'era qualcosa di diverso però lo vedeva sempre come suo fratello quando poi gli apparve dopo la risurrezione si convertì e lo chiama signore di dio e signore si sente servo del suo fratello solo di mamma però si dedica diventa l'anziano della chiesa di gerusalemme e dà anche una spiegazione della religione qual è che cos'è la religione la religione nel capitolo 1 verso 27 dice la religione pura e senza macchia davanti a dio e padre e questa altre cose soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo quando egli scrive questa lettera in quel periodo non c'era la pensione e se una vedova restava vedova non aveva risorse se poi aveva dei bambini piccoli peggio ancora e questi andavano sostenuti è un'immagine che ci fa vedere l'immagine dei deboli del suo tempo che possiamo anche tradurli diversamente l'applicazione pratica di quello che noi apprendiamo del nostro culto spirituale si traduce anche praticamente che la parte più debole per quel periodo erano le vedove e gli orfani perché non avevano come poter vivere ma lo possiamo tradurre anche nel campo spirituale in mezzo al popolo di dio ci sono tanti che sono deboli nella fede che hanno bisogno di essere sostenuti hanno bisogno di essere aiutati e allora l'ascolto è importante mettere in pratica svolgere il culto spirituale a dio l'adorazione il consumare il meglio di noi stessi perché dio possa essere glorificato ma poi c'è l'applicazione pratica nella nostra vita e quella di fare che cosa non di andare sempre con quelli che sono forti ma tener conto anche di quelli che sono deboli in mezzo alla chiesa che hanno bisogno sono deboli per quello che dice giacomo i deboli chiedono gli orfani un orfano un orfano è uno senza padre e senza mamma chi lo aiuta e dio ordina di fare di intervenire una vedova non avendo risorse non avendo nulla che cosa deve fare guardare il bambino o andare a lavorare ha bisogno di essere sostenuto chi lo deve fare quelli che ascoltano la parola di dio quelli che hanno riposto la loro fiducia in dio perché dio ci chiama ad essere di aiuto ai deboli ma non solo ai deboli finanziariamente o perché manca qualche cosa fratelli sorelle noi abbiamo bisogno di essere di aiuto proprio nella chiesa dove andiamo tutti i giorni per ascoltare la parola del signore tutte le volte andiamo il signore ci deve aiutare non solo ad ascoltare la sua parola ma poi cominciare a fare la nostra parte quando vediamo una sorella debole nella fede un fratello debole non lo dobbiamo schivare quando vediamo che non riesce a fare più di tanto lo vediamo che veramente è come quello che ho detto prima che viene in chiesa viene in chiesa ma mai lo vedi che cresce chi lo può aiutare se non chi vuole sviluppare il senso della responsabilità di quello che impara da parte del signore perché se non lo fa neppure chi è chiamato da dio chi lo potrebbe fare se noi non non aiutiamo quelli deboli che camminano con noi quelli che cominciano a ascoltare la parola del signore e ci dedichiamo a questo che forma di religione abbiamo siamo dei religiosi ma dei religiosi come come quelli che andavano a sentire il profeta ezechiele andiamo 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 a sentire l'uomo di dio capita di di avere delle persone speciali andiamo c'è papa andiamo 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 qua andiamo la ma la parola del signore dice che quando andiamo non dobbiamo solo andare per stare lì e restare lo stesso quando andiamo abbiamo due cose importanti da svolgere il nostro culto spirituale come abbiamo dito attraverso la nostra dedicazione a dio come un sacrificio vivente sì ci costa qualche poco di sacrificio per fare alcune cose signore ma per te io lo faccio non è più sacrificio perché quando calcoliamo il sacrificio che ha fatto il signore per riportarci nella condizione che ci ha portato è stato molto più grande del nostro non possiamo continuare a servire il signore solo a stare seduti ascoltiamo e ce ne ritorniamo e nulla cambia c'è un culto spirituale con una dedicazione e con un'applicazione di cercare di cominciare ad aiutare i più deboli i più deboli sono gli agnelli quando diciamo e testimoniamo che noi amiamo il signore noi amiamo il signore signore io ti amo glielo diciamo sempre quando siamo soli poi quando dobbiamo fare qualche cosa che succede a casa glielo diciamo la notte glielo diciamo quando non ci sente nessuno glielo diciamo poi ci sono delle cose da fare amare il signore gesù da un esempio bellissimo quando parla con con pietro sa che ognuno di loro dice che ama di più il signore allora gesù prese pietro gli disse ma pietro ma tu mi ami sì signore ma mi ami veramente e allora pasci gli agnelli cominciò da quelli che erano più deboli perché l'esercizio l'esercitazione se vuoi aiutare i forti quelli non accettano ma i deboli si lasciano aiutare eh se tu trovi qualcuno che non ce la fai gli dai una mano tu gli fai un piacere quello l'accetta e ti ringrazio se vuoi aiutare un forte ti dice ma dove vuoi andare mi ricordo quando iniziai il mio lavoro quando vai da quei grossi ti calpestano io mi ricordo quando iniziai il mio lavoro di commerciante c'era il un supermercato a sala che faceva un grande fatturato e allora quando voleva andare a vendere qualche cosa sapete che mi rispondevano sempre ma noi te la vendiamo noi a te la merce cosa vuoi portarci tu perché io ero piccolo loro erano grandi eh se invece aiutiamo i piccoli ci ringraziano allora aiutiamo i deboli perché dice la parola del signore dice la vera religione è quella di aiutare chi chi è deboli ci sono delle sorelle deboli in mezzo a noi che noi li vediamo allora aiutiamoli gesù da dove ha cominciato con pietro dagli agnelli se tu mi ami comincia a pascolare quelli che cominciano a camminare nella fede comincia a nutrire quelli che fanno i primi passi l'agnello è molto più piccolo della della pecora la pecora se la cava in qualche modo anche se non è un animale che si sa difendere molto però l'agnello ha bisogno di più cura l'agnello ha bisogno di essere curato e tutti lo possono curare io mi ricordo quando avevamo gli agnelli non era il pastore più grande che si interessava degli agnelli a casa nostra si faceva il più grande va a pascolare i più piccoli poi vanno a curare gli agnelli perché perché richiedono meno attenzione richiedono meno impegno sorelle fratelli noi dobbiamo imparare che man mano che camminiamo col signore dobbiamo ascoltare ma dopo aver ascoltato ci sono delle cose da fare il culto spirituale è importante e dobbiamo mettere il nostro cuore la nostra vita tutto ciò che il signore ci ha dato perché venga esposto per la gloria del signore venga così messo ogni risorsa che noi abbiamo se la predisponiamo perché posso onorare il signore attenzione nessuno si è spostato troppo ma se ci spostiamo dobbiamo ricordare la promessa del signore che io onoro quelli che mi onoro piacesse a dio forse qualcuno pensa ma tu come parli tu io che devo fare mi devo dare tutto al signore piacesse a dio che fosse così perché se tu onori il signore con tutto te stesso e con le risorse che tu hai e per per onorare il signore e lo fai col cuore per poterlo fare attenzione tu superi tutti perché perché il signore dice che se tu lo onori egli onora quelli che lo onorano nella misura che tu onori il signore il signore onora te piacesse a dio però questa immagine ci aiuta non riusciamo a tutto ma in parte dobbiamo muoverci in questa direzione presentare i nostri corpi in sacrificio vivente con in un modo che possiamo mettere le risorse che dio ci dà abbiamo tanta intelligenza sapete io dico spesso e lo voglio ripetere i credenti nati di nuovo hanno più intelligenza di quelli che non ce l'hanno perché è una intelligenza ravvivata e fortificata dallo spirito santo c'è un'intelligenza pura dice la parola del signore c'è quella montana e quella pura il credente li tiene tutte e due quella che ti dà il signore sai che cosa ti serve ti serve per fare le cose non ti serve perché ti siedi in un angolo e ti metti come un quei re quelle immagini dei re di egitto avete visto come stanno stanno così seduti coi capelli che arrivano fino qua e stanno e sono i grandi sapienti al credente gli è data l'intelligenza perché la possa mettere in pratica perché faccia le cose perché si muova benedetto sia il signore quante volte avete chiesto intelligenza a dio quanti ce ne sono io l'ho chiesta molte volte chi l'ha chiesta pure signore dammi l'intelligenza perché ce la dà vogliamo un esempio pratico come si usa l'intelligenza che dio dà basta vedere salomone il campione che chiese cosa fece dammi l'intelligenza poi si sedette stava così no l'intelligenza la metteva in moto ogni giorno faceva coltivazioni era lì per addirizzare come si piantavano le piante faceva le case c'era le case cresceva i cavalli e sapeva dei cavalli l'intelligenza la distribuiva la usava la usava in un modo che la sua fama si allargava dappertutto dio dà l'intelligenza giuseppe che esce dal carcere e diventa amministratore dell'egitto ma sapete cosa vuol dire amministrare una nazione noi a volte facciamo fatica amministrare la nostra famiglia una nazione chi gliela dava l'intelligenza dio però quando cominciò a metterla all'opera incominciò a chiamare le persone a dire allargate i granai demolite quelli che ci sono e cominciate a costruirli e secondo me stava anche sui cantieri per dire come dovevano costruire perché lui sapeva aveva ricevuto da dio il mandato per amministrare il re gli aveva dato ma dio gli aveva dato non solo l'interpretazione dei sogni ma anche l'intelligenza dio non ti ha dato dei sogni solo per sognare cosa dio vuole fare nella tua vita e attraverso la tua vita ti dà anche l'intelligenza come devi sviluppare quello che gli ha messo nella tua vita tu però la devi usare la devi usare non devi solo ascoltare devi dedicarti e devi continuare a darti a dio come un sacrificio vivente e poi nella parte pratica cominci ad aiutare quelli che sono più deboli in modo che tutti insieme il popolo di dio sia un greggio di pecore forti che fanno latte e lana per il padrone chi è il pastore sono io noi siamo tutti pecore del buon pastore perché il buon pastore ha messo la sua vita per le pecore io sono il buon pastore come dice nel capitolo 10 dell'evangelio di giovanni io sono il buon pastore che ho messo la mia vita per le pecore allora noi quando curiamo gli agnelli sapete cosa stiamo facendo stiamo portando avanti il mandato che il signore ci ha dato e facendo così sorella fratello non siamo come il popolo di israele che andava a sentire cosa diceva l'uomo di dio quando veniamo nella casa del signore dio ci parla ma quando usciamo fuori diciamo o signore grazie oggi mi hai dato un mandato speciale mi hai detto che devo cominciare ad aiutare a far dar da mangiare a un agnellino devo cominciare ad aiutare qualcuno che è debole che non può fare più di tanto io lo voglio aiutare perché diventi grande e perché crescendo ti serve come piace a te questo è il popolo di dio benedetto sia il signore e noi dobbiamo pregare il signore che ci aiuta ad esercitare l'intelligenza che ci dà ogni giorno perché la stessa intelligenza vedete quando l'olocausto quando il sacrificio veniva esposto ciò che era dessa proprietà dell'animale era offerto a dio tutte le risorse che c'erano erano offerte tutte le risorse che dio ci dà l'intelligenza le capacità mettiamola al servizio di dio e dio continua a benedire perché lui ce l'ha dato e se la usiamo per onorare lui ma allora io che devo fare devo onorare dio e poi come campo poi come vivo ma penso che un esempio ci può bastare salomone non è che usava l'intelligenza e poi si moriva di fame come pensate voi eh andiamo a vedere solo cosa offriva quando inaugurò il tempio quante migliaia migliaia ma io quando leggo queste cose mi spavento 11 mila tovitelli 10 giorni 15 giorni di festa un popolo tutto intero che lo dava dio ma la gloria di dio si manifestava si moriva di fame perché egli si muoveva ad usare l'intelligenza che dio gli aveva dato si moriva di fame giuseppe perché usava l'intelligenza che dio gli aveva dato no 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 non si moriva di fame perché oltre a sostentare tutto l'egitto fu la persona che salvò la sua famiglia e ne divenne un popolo tu puoi essere la persona che salvi la tua famiglia e diventa un popolo tu puoi essere una persona che salvi la tua famiglia e diventa un popolo che onora dio perché così vediamo nella parola del signore perciò se noi lo facciamo non dobbiamo avere nessun timore perché colui che ci dà l'intelligenza come proseguire ci fa sapere che la parte per noi non ci manca mai ma ci dà di più e vediamo la sua gloria che si manifesta perciò non dobbiamo essere degli ascoltatori come dice san giacomo dobbiamo essere dei facitori noi non andiamo anni e anni al culto per restare sempre allo stesso posto senza mai sapere dove si trova la genesi e senza mai sapere dove si trova l'apocalisse e senza mai aver letto alcuni passi alcuni libri della bibbia a nostra vergogna ma siamo di quelli che ci nutriamo della parola perché vogliamo poi dare il più possibile a coloro che ne hanno bisogno perché il popolo di dio possa crescere e possa essere un popolo benedetto che continua a lodare dio continua a benedire dio e man mano avanza verso gli obiettivi che dio mette davanti a ogni credente ed ogni sogno poi si realizza con l'intelligenza che dio ci dà per andare avanti vogliamo pregare il signore che ci aiuti a comprendere ciò che ci ha detto stasera in modo che quando ce ne andiamo diciamo il signore ci ha parlato veramente e devo cominciare a cambiare qualcosa nella mia vita perché noi abbiamo bisogno di ravvederci ogni giorno molti credenti pensano che si sono ravveduti 30 anni fa è tutto a posto noi dobbiamo rivedere la nostra vita perché ci sono sempre degli angoli che vanno rivisti dove si annidano alcune cose che non ci permettono di avere quella salute spirituale che noi abbiamo bisogno questa revisione costante ci aiuta a rivedere e man mano con la parola del signore andiamo a inserire quella parte che manca perché l'uomo di dio possa essere completo di nulla mancante eh non un pezzo sì o un pezzo no un pezzo vigoroso e un altro pezzo secco no affinché l'uomo di dio la donna di dio l'essere che ama dio possa essere completo in tutto vogliamo pregare il signore che ci aiuti ma ci dobbiamo anche mettere in moto alziamoci in piedi e preghiamo il signore grazie ti benediciamo signore grazie signore che tu continui a parlare permetti ai nostri cuori signore di cominciare a fare la nostra parte per vedere signore come funziona bene quando noi non solo ascoltiamo ma facciamo quello che man mano possiamo fare per la tua gloria grazie signore nel nome di gesù ti benediciamo e ti ringraziamo tutti insieme amen amen gloria al signore grazie a tutti grazie a tutti